Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, si terranno domenica i funerali di Francesco Diana e Giovanna Mori, marito e moglie che hanno perso la vita nell'incidente d'Indicatore lo scorso 9 maggio. Le esecue saranno celebrate nella chiesa di Santa Maria Nuova a Terra Nuova alle 15.30, una sola cerimonia per dare l'addio ad entrambi. La coppia lascia un figlio di 25 anni che era in auto con loro al momento dell'incidente. Intanto sul drammatico scontro la procura di Arezzo ha aperto un fascicolo. L'ipotesi di reato è quella di omicidio stradale. Sotto accusa ci sarebbe la velocità alla quale stava viaggiando la Porsche con cui si è scontrata l'auto dei due coniugi. Ovviamente siamo ancora nell'alveo delle ipotesi. Un altro incidente stradale si è verificato questa mattina lungo via di Pescaiola all'ingresso di Badialpino in Valdichiana, nel comune di Civitella. Un'automobile si è ribaltata finendo fuori strada sul posto. I vigili del fuoco che hanno estratto la conducente, una donna poi affidata alle cure dei sanitari, non è in pericolo di vita. Un altro incidente invece lungo l'autostrada del Sole, intorno alle 16.30. Oggi pomeriggio nel tratto compreso tra Valdarno e Arezzo si è trattato del tamponamento tra due mezzi pesanti e altri due veicoli sul posto. Anche in questo caso i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della polizia stradale e il personale di autostrade per l'Italia, subito dopo l'incidente, si sono formati oltre 10 chilometri di coda in direzione sud. Adesso invece torniamo a parlare di quanto accaduto proprio lungo l'autosole, ma dobbiamo tornare indietro di molti mesi. Parliamo di gennaio e in merito agli scontri che ci furono esattamente proprio l'8 di gennaio nella area di servizio badialpino est lungo l'autosole tra i tifosi della Roma e del Napoli. Questa mattina è stata rinviata l'udienza presso il tribunale di Arezzo per il processo a carico del tifoso romano Martino. Di Tosto venne arrestato nell'immediatezza dei fatti per rissa aggravata, poi scarcerato. Di Tosto, assistito dall'avvocato Lorenzo Contucci, aveva chiesto nella scorsa udienza la sospensione del procedimento attraverso la messa alla prova che prevede come attività obbligatoria e lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. Aveva anche presentato richiesta di revoca delle misure cautelari, ovvero l'obbligo di firma e di dimora, richiesta a cui il PM si era opposto. Il tifoso romanista era già stato raggiunto da un daspo per 10 anni e notificato dalla questura di Arezzo. Il giudice in quel caso si era riservato, aggiornando appunto il processo a questa mattina, ma oggi un nuovo rinvio. Il processo, la nuova udienza è stata calendarizzata per il 7 di luglio alle 9, sempre presso il tribunale di Arezzo. C'è grande attesa per l'edizione di Primavera di Oro Arezzo, ormai alle porte, aprirà i battenti proprio domani all'Arezzo Fiere e Congressi. Sono attesi tantissimi buyers da tanti paesi e soprattutto, conferma Giordana Giordini, presidente della sezione Orafi e Gioiellieri di Confindustria, in questa edizione c'è una grande partecipazione da parte delle aziende aretine. Il settore è in grande tenuta, per fortuna, nonostante le oscillazioni del prezzo dell'oro che stiamo subendo in questo momento. Certamente sono oscillazioni non positive per l'economia del distretto, però il distretto sta tenendo e diciamo che sta continuando il trend di positività che era iniziato ormai prima del Covid e continuato nel 2021. Le aziende sono tranquille, con ordinativi e con un'economia ancora molto fiorente. Adesso affrontiamo Oro Arezzo e siamo assolutamente convinti che arriveranno molti buyer perché abbiamo avuto dei grandi riscontri, già stanno cominciando ad arrivare nelle aziende perché arrivano qualche giorno prima anche per visitare i clienti storici. Quindi c'è un grande fermento, credo che anche quest'anno ci sia ancora più partecipazione da parte delle aziende e questo mi fa molto piacere perché l'anno scorso avevo lamentato appunto una non vicinanza delle aziende soprattutto del territorio aretino alla fiera. Quest'anno credo che sia cambiato proprio il trend e quindi un grande anche applauso a IEG che ha investito molto e che ha creduto in questo rilancio della fiera. È vero che c'era stata anche l'anno scorso ma quest'anno credo che sia proprio quella della rinascita per il nostro territorio. Che oscillazione si parla? Oscillazioni di più di un euro, un euro e cinquanta da un giorno all'altro per cui un cliente che deve comprare diversi quantitativi di oreficeria chiaramente si trova in difficoltà a dover fissare il prezzo del metallo. Una vera e propria discarica di siringhe sono stati volontari del gruppo Fare Verde Etruria a definire così il parco del Pionta, oggetto di una tappa delle passeggiate ecologiche che già ha visto diverse iniziative da parte dell'associazione nel corso di questi anni. In poco più di un'ora e mezza sono stati raccolti quasi 18 chili di rifiuti e spazzatura partendo dalla zona giochi fino ai campi da calcio e dintorni del polo universitario aretino. Consapevoli, dicono appunto i volontari della criticità della zona, sono stati riscontrati numerosi rifiuti pericolosi, nello specifico proprio aghi e siringhe già ovviamente utilizzate. Adesso invece parliamo di questa giornata, 12 maggio, oggi ricorre la giornata internazionale degli infermieri. Intanto questa prima intervista con il presidente di OPI, Giovanni Grasso. Nell'ultima stima tra 8-10 anni mancheranno 100.000 infermieri e questo numero è tantamente preoccupante che andremo sicuramente a dover individuare un'altra soluzione perché se non formiamo un numero adeguato di infermieri il sistema sanitario crollerà. Un carico di lavoro che sta diventando insostenibile è anche una retribuzione non adeguata. Sono questi i temi lanciati nella giornata internazionale dell'infermiere dal presidente di OPI. Il problema è che la politica, strumentalizzando magari alcune idee del passato o andando secondo alcune logiche, non dà il giusto seguito a quelle che sono le competenze che oggi gli infermieri ha, soprattutto in emergenza-urgenza. Abbiamo una delibera regionale che ci permette di fare una riforma importante del sistema sanitario di emergenza-urgenza in Toscana ed è quella proprio di individuare quelle che sono le infermierizzate, quindi l'infermiere a bordo dell'ambulanza che arriva sull'evento acuto a casa dei pazienti in maniera da poter gestire in maniera veloce e tempestiva l'evento, eppure qualche politico ancora non ha ben chiaro che l'infermiere è cambiato rispetto al passato, quindi oggi ha una competenza, una formazione, anzi una costante formazione all'interno di questo sistema di emergenza che permette di dare delle risposte immediate ed è questo non è più accettabile quando si va a strumentalizzare una professione che è in forte crescita perché altrimenti si rischia di venire meno a quel patto tra infermiere e cittadino e tra professionista e cittadino, perché questo è il vero problema. Venendo meno a questo patto di fiducia il cittadino non si sente più tutelato e in quel momento lì poi scatta anche l'ira dei familiari o piuttosto anche dello stesso cittadino che non si sente al sicuro e questo dobbiamo evitarlo. Presidente c'è poi il tema delle aggressioni. Oggi per l'appunto oltre alla giornata di festa sarà una giornata di ricordo della collega Barbara Capovani proprio la psichiatra aggredita a Pisa in uno scontro con un paziente che poi purtroppo gli ha costata la vita. Queste aggressioni sui luoghi di lavoro non sono tollerate. In passato abbiamo visto come anche l'ordine di Arezzo, Opie Arezzo, appunto ha lanciato una campagna social di sensibilizzazione proprio dal nome rispetta chi ti aiuta e soprattutto con la mia presenza anche sui tavoli ministeriali e parlamentari al Senato proprio per parlare di questa problematica e cercare delle possibili soluzioni. Quindi il tema della sicurezza sarà al centro di tutte le feste degli infermieri in Toscana ma non solo, anche a livello nazionale. Giornata che è stata celebrata oggi al Teatro Pietro Aretino con una cerimonia che ha visto la presenza di tutte le autorità civili e militari del nostro territorio e anche del Presidente della Regione Toscana e Eugenio Gianni sono stati dati degli importanti riconoscimenti agli infermieri che si sono distinti nel tempo per svariate operazioni. Un premio anche ai media, anche alla nostra emittente del quale ovviamente ringraziamo il Presidente dell'Opi per aver raccontato un periodo così particolare come quello della pandemia che per fortuna ci lasciamo alle spalle e per ovviamente continuare comunque a raccontare appunto l'opera degli infermieri. Ma sentiamo adesso invece ai nostri microfoni proprio il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni. Presidente, insomma li abbiamo chiamati reoi durante la pandemia, i temi che oggi vengono sollevati da questa categoria così importante sono quelli appunto di un maggior investimento nel mondo della sanità, di una maggior tutela, di una maggior considerazione di questa professione così importante. Ma è una professione che si è progressivamente affermata arrivando alla necessità della laurea e poi ordine professionale. Oggi siamo in manifestazioni organizzate in tutta la Toscana come ordine professionale degli infermieri e devo dire che questo ne ha aumentato la preparazione, l'applicazione sul piano della formazione professionale. Il ruolo negli ospedali, del resto quando è che la professione infermieristica nasce con Florence Naintal, che porta il suo nome proprio dal luogo dove nacque, il 12 maggio, il giorno di oggi, del 1820 a Firenze. Nasce questa professione nel momento in cui Florence riesce a dare il senso attraverso il suo profondo amore e competenza per la statistica di come tenendo più puliti gli ospedali, applicandosi con acqua che fosse pura e controllata come tale, si arrivava a dei risultati sul lato della prevenzione che diminuivano la mortalità e consentivano cure maggiori. Quindi in qualche modo l'infermiere come, diciamo così, angelo del luogo di cura, spina dorsale del sistema ospedaliero della prevenzione. Io questo lo vedo oggi nelle necessità che sempre abbiamo e che ci portano a ampliare. Pensate alla figura nel decreto cura Italia del 2020 dell'infermiere di famiglia, che va nelle famiglie, che svolge una funzione che magari una volta era quella del medico di famiglia. Devo dire che proprio per questo noi ci applichiamo a tal punto che rispetto ai 7 miliardi e 593 milioni che nel 2023 è il fondo sanitario regionale, noi ci mettiamo altri 4-500 milioni del nostro bilancio, quello che magari sarebbe dedicato alla scuola, allo sport, alla cultura, al trasporto pubblico, ma riteniamo che il sistema sanitario sia la cosa più importante per la regione. Ci dedichiamo l'80% del nostro bilancio. Di più non so cosa potremmo fare. Organizzare meglio? Questo lo dobbiamo costruire insieme all'interno delle ASL. Oggi è la giornata degli infermieri e io voglio dirgli grazie per il ruolo che svolgono e per l'evoluzione in termini di formazione di questa professione, che ripeto è l'elemento fondante del sistema sanitario regionale e nazionale. Oggi maltempo un po' in tutta la Toscana, è stato flagellato come sappiamo principalmente il territorio del Fiorentino con forti piogge e grandinate che non hanno risparmiato anche il nostro territorio, per fortuna non causando danni così importanti appunto come nell'area fiorentina, ma la pioggia prevista in questo fine settimana ha fatto annullare diverse iniziative, tra queste anche la maxi area pedonale prevista per le vie del centro ad Arezzo, dunque non ci sarà appunto la chiusura, chiusura che insomma consentiva agli esercizi di bar e ristoranti di poter apparecchiare appunto in strada. Rinviato anche il mercatino dei ragazzi del Calcite che ha dovuto rimandare l'appuntamento di domenica 14 maggio, tornando invece appunto alla Movida, come dicevamo insomma questo fine settimana non ci sarà la maxi area pedonale, ma dopo gli episodi di violenza in piazza della Badia, in calendario invece per lunedì prossimo il tavolo sulla sicurezza presso la prefettura di Arezzo, l'intenzione come ha spiegato il prefetto è quella di dare una stretta ai controlli. Adesso invece parliamo della diga di Montedoglio, un focus nelle scorse ore in un convegno ospitato e voluto anche dalle bonifiche ferraresi per parlare appunto del futuro di questa importante infrastruttura. Una giornata di studi per certificare la sicurezza della diga di Montedoglio e condividere il percorso di sviluppo dell'utilizzo della risorsa idrica. Abbiamo visto tutta una serie di aspetti tecnici che sono stati conseguenti al ripristino della diga di Montedoglio dopo l'incidente del 2010, quindi siamo entrati veramente nel dettaglio di tutte le cose fatte, di tutte le precauzioni prese e di tutte le modalità utilizzate anche per rispettare le prescrizioni e le norme di legge. Un'iniziativa fortemente voluta dall'ente Acque Umbre Toscane al termine degli interventi di ripristino dello sfioratore della diga stessa che ha rappresentato un'occasione di confronto, approfondimento e dibattito tra tecnici, ingegneri, docenti universitari, istituzioni locali, regionali e statali. Gli interventi di natura tecnica sono stati molto interessanti, molto puntuali e specifici ma era quello che volevamo e quindi dall'analisi di quello che è successo quella notte fino alla ricostruzione con tutto l'iter, la catena di controllo specifica puntualissima sull'esecuzione che è stato veramente interessante e fino anche a tutta quella miriade di controlli che è stato messo in evidenza dal collaudatore che poi testimoniano la grandissima attenzione che c'è su queste opere per la loro sicurezza. Una particolare attenzione è stata rivolta alla presentazione dei lavori per l'aduzione della risorsa di Montedoglio che permetteranno di rendere potenzialmente irrigabili in Valdichiana più di 20.000 ettari. Questa era una zona interessata da una palude fino a qualche anno fa diciamo e quindi evidentemente oggi è una zona che dimostra di avere un'agricoltura di alto profilo grazie appunto anche all'azienda che insiste nel territorio ma ci sono anche tantissime altre aziende agricole che stanno dando lustra al territorio stesso. Siamo molto soddisfatti perché grazie anche alla diga del Montedoglio quindi al passaggio e della condotta abbiamo anche la possibilità di ampliare le nostre reti idriche quindi siamo soddisfatti di questo. Nessuna chiusura del punto nascita nei mesi estivi dell'ospedale del Valdarno a rispondere alle dichiarazioni pubblicate dal sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai. È la ASL Toscana Sud-Est tramite le parole del direttore Antonio Durzo. Non si può chiudere dice ciò che è aperto e che resterà aperto come il punto nascita del Valdarno che continuerà quindi anche nei mesi estivi ad assicurare i propri servizi. E poi Durzo puntualizza anche sui posti letto di degenza neurologica. La priorità dice assicurare agli assistiti le migliori cure possibili. La riorganizzazione non cambia. Comunque il ruolo dei neurologi in servizio all'ospedale della Gruccia che restano come riferimento clinico dei loro pazienti. Adesso invece apriamo una pagina che farà parte del nostro telegiornale anche nelle prossime edizioni perché domenica 14 maggio ricorre la festa della mamma. Noi abbiamo voluto celebrare insomma questo ruolo così importante nelle nostre famiglie, nella nostra società raccontando delle mamme decisamente speciali. Partiamo proprio da Anna Lisa, una mamma biologica e una mamma anche affidataria. L'affidamento è un progetto temporaneo che nasce più o meno temporaneo. Quindi poi a seconda dell'evoluzione appunto del percorso, dei fatti che accadono che non si possono controllare fino in fondo, può avere diversi esiti come gli affidi sine die che sono affidi in cui non c'è più un rientro nella famiglia di Orine e non sono adozioni. Anna Lisa è una mamma biologica e affidataria. Scegliamo di raccontare la sua storia in avvicinamento alla festa della mamma che ricorre domenica 14 maggio. L'affidamento familiare e l'adozione dei minori in Italia è regolato dalla legge 184 del 4 maggio del 1983. Quest'anno ricorrono i 40 anni. Un tema delicato, quello dell'adozione e dell'affidamento, che prevede anche un'altra forma di accoglienza, le famiglie ponte. Ovvero l'accoglienza, la pronta accoglienza di bambini piccolissimi, una fascia d'età che va dai 0 ai 3 anni, che necessitano appunto di una pronta collocazione in attesa che venga delineato il loro progetto di vita da parte dei servizi e da parte del tribunale, che può essere quello del rientro nella famiglia di origine piuttosto che quello in un'adozione. E sono questi progetti un pochino più particolari, dove la preparazione e comunque la conoscenza dell'affido deve essere ben radicata e ben consapevole, insomma, perché proprio sono dinamiche un pochino diverse rispetto all'affidamento familiare. Le famiglie ponte, appunto, proprio il nome caratteristico di questa funzione che svolgono, è proprio questo momento un po' di transizione, in cui c'è proprio l'esigenza di mantenere un ambiente familiare che possa facilitare appunto e non interrompere i legami di attaccamento di cui i bambini neonati hanno necessità e allo stesso tempo che sia consapevole che il percorso è temporaneo e che si sta in vari punti di questo ponte. Si sta all'inizio del ponte, a metà, e poi si arriva dall'altra parte, dove appunto non solo c'è l'accoglienza di questo bambino, ma l'accoglienza anche della famiglia, che sia quella biologica piuttosto che una famiglia adottiva o affidataria, per facilitare appunto questo processo di non interruzione dei legami. E allora l'intervista con Annalisa, integrale, nella nostra puntata di Coffee Time di questa settimana, subito dopo il nostro telegiornale alle 21 e domani vi racconteremo, insomma, un'altra storia e altre mamme speciali, proprio come Annalisa. Adesso invece parliamo di un bilancio decisamente positivo, quello che traccia la Fondazione Guido d'Arezzo al termine di una stagione appunto culturale. Dall'apertura con Donato Renzetti e l'orchestra regionale della Toscana a Anane Trepco, e poi il corpo di ballo e l'orchestra dell'Accademia della Scala, ma anche il debutto di Ospetec nella regia teatrale e gli appuntamenti con Monti, Massironi, Foglietta e Elena Sofia Ricci, solo per nominarne alcuni. È la Fondazione Guido d'Arezzo adesso a tracciare il bilancio della stagione concertistica e di quella al Teatro Petrarca. Il teatro si è confermato la nostra punta di diamante perché sostanzialmente le due repliche che offriamo sempre al pubblico a retino sono andate quasi sempre esaurite, tra l'altro anche con nuove proposte di nuovi mattatori. Altrettanto bene, mi sento di dire, è andata la stagione concertistica particolarmente bene quest'anno. Devo dire che il cartellone quest'anno presentava nomi importantissimi, quasi in esclusiva per Arezzo, e faccio riferimento alla soprano russa Netrebko, ma anche la English Chamber Orchestra, abbiamo nuovamente avuto l'orchestra del Teatro del Maggio ad aprire la stagione e quindi anche su quel fronte lì, dove inizialmente sicuramente abbiamo durato un po' fatica a ritrovare il pubblico, a maggior ragione dopo la pandemia, mi sento di dire che abbiamo segnato dei punti importanti. Archiviata con successo quest'ultima stagione, si pensa già al futuro. Stiamo già lavorando per la stagione teatrale prossima, a breve ci vedremo con il nostro direttore artistico musicale Giovanni Zanon, inizieremo a fare le prime proposte, a brevissimo stiamo lavorando invece su un calendario di eventi musicali, sulla falsariga di quello che è avvenuto l'anno scorso. Naturalmente tutto questo lavoro, e ci tengo sempre a dirlo, in collaborazione con operatori della città, perché credo, anzi ne sono certo, il ruolo della fondazione è quello di valorizzare lì dove ci sono delle eccellenze in città, di lavorare, di esaltare queste eccellenze e non di offuscarle. Con i prossimi due servizi invece parliamo di ambiente, biciclette e soprattutto codice della strada. Partiamo da BimBimBici che torna ad Arezzo. Il servizio. Sport, aggregazione, divertimento ma anche promozione della mobilità dolce, sostenibile per una maggior vivibilità e salubrità dei centri urbani nel rispetto della natura e dell'ambiente. Questo lo spirito di BimBimBici, uno stile da far proprio sin da piccoli. La manifestazione nazionale organizzata da FIAB, giunta quest'anno alla sua 21esima edizione, torna domenica 14 maggio con la consueta pedalata in sicurezza per famiglie e bambini attraverso le principali strade e parchi della città. Per la pioggia ricordo il botto del fondatore dei giovani esploratori, Lord Baden Powell, che diceva e dice che non esiste tempo cattivo ma cattivo equipaggiamento. Quindi eventualmente se minaccia il tempo, mantellina o keway per esempio. Ma quindi aspettiamo tutti i bambini e i loro genitori e chi vuole. Alle 9 e mezzo al parco Ducci, davanti ai carabinieri, lato pagoda, partiremo alle 10. Lì ci sarà poi un giro di circa 10 chilometri con la scorta della Polizia Municipale e dei volontari FIAB. Il tema della mobilità sostenibile sarà anche oggetto del convegno Attenzione ai Bambini in Città, che sabato 20 maggio concluderà il progetto Muoviamoci Insieme, finanziato dal bando del Ministero dell'Istruzione sulla transizione ecologica delle scuole e dal Comune di Arezzo. Siamo riusciti a coinvolgere nel corso dell'anno scolastico circa 140 bambini che quotidianamente prendono parte alle varie linee di Piedibus che sono state attivate in città. Sono 9 linee che vedono coinvolti numerosi bimbi tutti i giorni per compiere il tragitto casa-scuola a piedi, ovviamente accompagnati dai genitori. Quindi per ogni bambino che partecipa al progetto c'è una famiglia, c'è un genitore che partecipa attivamente, che collabora e che ci crede. Anche in questo anno abbiamo portato avanti attraverso il Piedibus, attraverso iniziative all'interno delle scuole, proprio l'attuazione di iniziative che proprio indicano quanto in realtà sia funzionale l'arrivo a piedi oppure in bici alle scuole. Questo per due motivi, uno sicuramente ambientale, quello di eliminare macchine ferme incolonnate davanti alle scuole e il secondo sicuramente quello della sicurezza. Karting in piazza invece nei giorni scorsi ha insegnato ai ragazzi, grazie all'impegno di ACI, quali possono essere appunto i pericoli della strada. Attraverso il gioco e il divertimento si insegnano ai ragazzi i pericoli che si possono incontrare sulla strada. Ci sono stati due giorni, ci sono state diverse centinaia di bambini che abbiamo raggiunto, è la conclusione del progetto che si chiama Guida che ti guido, che è il progetto dell'automobile che vuole sensibilizzare i bambini fuori dall'età di patente sulle regole della sicurezza stradale. Noi crediamo che non si debba imporre una regola ma si debba condividere. Quindi cosa facciamo? Facciamo dei format durante l'anno all'interno delle scuole e poi oggi abbiamo concluso questa giornata con questa prova pratica del kart perché molti di loro non l'hanno nemmeno mai provato. Quindi sostanzialmente l'idea nostra è quella di far condividere il fatto che se tu ti comporti correttamente alla guida di un mezzo e oggi lo guidi sicuramente ti conviene, quindi è utile per te nei confronti degli altri. Questa è la filosofia. Ai ragazzi vengono un po' spiegati anche i cartelli stradali perché poi è vero che loro non guidano ma magari possono andare in sella a una bicicletta su una strada. Le regole della sicurezza stradale non dipendono dal mezzo, dipendono chiaramente da, ci puoi andare con la bicicletta, con la macchina, ci puoi andare in qualunque maniera, ma soprattutto devi condividerle perché le devi fare tue. Questo l'obiettivo di oggi è montare per esempio su un cart che molti di loro non ci sono nemmeno mai montati e affrontare una curva, una piccola curva che è qua e imponere le regole che ti hanno insegnato qui da questo punto di vista. Se non lo fai colpisci il guardrail di plastica laterale. Questo ti fa capire subito nel contrasto che è utile applicare la regola. Ecco come noi approcciamo in maniera concreta a questo tipo di meccanismo con una giornata molto carina, però formativa perché sono sicuro che gli rimarrà nella mente e soprattutto nell'aula formativa abbiamo parlato di cellulari, abbiamo parlato di tante cose e li abbiamo incaricati, li abbiamo fatti diventare gli ambasciatori della sicurezza stradale. Andare presso i genitori e dirgli babbo, mamma, il cellulare alla guida non si usa. Questo è un modo simpatico ma efficace di far prevenire un incidente che è l'obiettivo sul quale noi dell'Automobile Club di Arezzo stiamo lavorando. Ed infine chiudiamo con una notizia di carattere sportivo. Tempo di bilancio anche per il settore giovanile dell'Arezzo. La categoria degli Juniors regionale ha vinto il proprio campionato portando il titolo sportivo negli Elite per il prossimo torneo. e giovedì ha ottenuto un altro trofeo vincendo la Supercoppa. Al Bozzi di Firenze i ragazzi allenati da mister Magnanensi hanno prima eliminato il Firenze Ovest grazie alle reti di Galassi su rigore e Peruzzi poi in finale. Piombino si è dovuto arrendere poi al gol decisivo di Scatizzi, un bis di trionfi che rimarranno nella storia della società. Gli allievi regionali invece hanno chiuso la regular season con la terza posizione e si sono per questo qualificati alla Coppa Toscana. Ottime le stagioni anche degli allievi B e giovanissimi B provinciali che hanno chiuso il loro tornei con i giorni di merito. I giovanissimi regionali invece hanno terminato il campionato con uno strepitoso secondo posto che ha permesso ai ragazzi di disputare la Coppa Toscana. Ma non solo. La squadra è prima nella graduatoria dei ripescaggi regionali per gli Elite. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo allora con questa puntata speciale di Coffee Time dedicata alle mamme. Grazie e arrivederci. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.